Prima la bocciatura da tutto il territorio unito, poi ieri l'esame di riparazione, ma anche questo non è stato superato. L'incontro tra i promotori della petizione per una sanità diversa, migliore e i vertici dell'Ulss 7 si è rivelato importante ma non risolutivo. Il direttore generale Carlo Bramezza, di fronte alle migliaia di firme portate sulla sua scrivania dai consiglieri comunali di Bassano, ha replicato con numeri e bilanci. Ma chi è intervenuto ha più volte ribadito che non è così, che non è con i numeri né con i grafici che si risolvono i problemi dei cittadini. Noi riteniamo che le nostre richieste non siano state esaudite completamente, nel senso che ci verranno forniti da parte della dirigenza dei dati che ci hanno presentato ieri, però è evidente che questi dati vanno valutati, ma a noi dei dati interessa fino a là, interessa che ci siano dei cambiamenti. Cambiamenti che, come hanno chiesto in molti, significano un'inversione di marcia immediata, un passo indietro da parte di chi gestisce l'Ulss 7. È stato sicuramente un incontro che per noi è stato importante, perché abbiamo portato la voce dei cittadini. Dall'inizio non volevano neanche ascoltare, ma abbiamo detto che una sanità non è fatta solo di numeri. È stato un atteggiamento sicuramente di distanza, nel senso quasi di chiusura rispetto alla segnalazione di alcune problematiche. Una popolazione, quella dell'area bassanese, che non intende più accettare ritardi, disagi, disservizi e a chi dice che continuando nella protesta si rischierebbe la perdita dell'Ulss 7, ecco la replica del consigliere Vernillo. Questo è un timore che non sta né in cielo né in terra, è una cosa che è fuori proprio discussione. È uno spauracchio che si sta, come dire, mostrando in giro perché si vuole silenziare la parola della gente. La gente invece deve parlare, il silenzio non salverà il nostro ospedale. Nessuna tregua fanno sapere i diretti interessati che vogliono tenere lontano la politica da tutto quanto fatto finora, a partire dalla raccolta firme fino alla bocciatura del Digibra Mezza. Credo che questa non è una battaglia o una guerra in cui ci devono essere delle tregue, ma è un lavoro costante e continuo di ascolto dei cittadini e di rapporto con le istituzioni e i vertici della ASL perché le cose vadano bene. Non c'è nessuna guerra, quindi non c'è nessuna tregua. Si tratta di far andare bene le cose. Il prossimo passo sarà incontrare il governatore Zaia o comunque i vertici della regione. Sì, l'involontà è questa. C'è un territorio che ha parlato e sta parlando in maniera chiara di una difficoltà. Bisogna portarlo a chi a Venezia gestisce la responsabilità della sanità sperando che possa ascoltare almeno lui questo grido di preoccupazione che i cittadini stanno sollevando da alcuni mesi.